Sono Luca Pozzi, amo definirmi mediatore interdisciplinare e artista. Il mio lavoro si focalizza sulle connessioni tra cosmologia multimessaggera, gravità quantistica e arte contemporanea. Il mio lavoro si focalizza sulle connessioni tra cosmologia e artista. Per una boccata d'arte che ho pensato si chiama Arcanians ed è diviso in due capitoli. Uno in un campo aperto e costituito da tre palline da tennis ovalizzate dalla velocità che cadono dal cielo e rimangono in perfetto equilibrio su tronchi alti 6 metri. Sono fatte di bronzo una tecnologia antica di più di 5.000 anni fa. Ma allo stesso tempo sono equipaggiate di rivelatori di particelle degli NFN che le rendono sensibili ai muoni che sono particelle subatomiche che provengono dallo spazio, impattano con l'atmosfera e raggiungono la scultura. Quando la toccano, quando toccano la loro superficie, un LED di luce emette un bagliore. Ecco, quello è il momento in cui lo spazio comunica con la Terra. Il secondo capitolo si trova invece in uno dei tre stall di Mezzano, che sono dei cunicoli che dalla montagna portano l'acqua alle fontane del paese. Lì si trova la tana di un altro intervento, è un drago, si chiama Arcanianshenron, è un drago composto da riferimenti che vengono da più discipline. Alle ali tratte dalla Madonna del Parto di Piero della Francesca, uno scudo che protegge il suo cuore viene dalla fisica delle particelle ed è un diagramma del modello standard. La parte determinale, la coda, è composta da uno dei componenti dell'IBM Quantum Computer e nelle mani si trovano in rilievo i volti dei bambini sorridenti di Medardo Rosso, che è uno scultore del Novecento. Ma oltre alle Dragon's Egg che avete qui alle mie spalle, che sono sostanzialmente le sue uova, è connesso anche ad Internet, in particolar modo a un social network che si chiama Twitter. e sostanzialmente ogni volta che la particella tocca gli occhi del drago una parola viene selezionata e organizzata da un'intelligenza artificiale che abbiamo programmato in collaborazione con l'INFN. Come se il drago fosse una specie di oracolo che manda messaggi provenienti dal cielo all'interno di una caverna che come una sorgente porta acqua nel mondo circostante. Grazie a tutti!